Europa 2019 verso le elezioni europee è il titolo del progetto transnazionale proposto dalla Commissione Europea e dalla provincia di Trento per avvicinare i cittadini all'appuntamento elettorale del maggio dell'anno prossimo. Nella sede della Biblioteca di Via Romagnosi si è parlato di come l'Unione Europea sia presente nella vita quotidiana e da dove provengono e come vengono investiti i fondi del suo bilancio. I partecipanti possono anche proporre un'idea personale per investire le risorse comunitarie. È un'iniziativa un po' particolare, un po' simpatica, che abbiamo pensato di attivare all'interno di questo progetto, cioè far sì che i cittadini formino il loro bilancio, propongano il loro bilancio dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027. 10 euro a disposizione da suddividere nelle sette rubriche, macro rubriche proposte dalla Commissione Europea nel maggio scorso per il bilancio 21-27 e vedremo quello che verrà fuori. Vedremo quindi il bilancio fatto dai cittadini trentini. Prossima tappa il 4 ottobre a Innsbruck dove si discuterà con Tirolo, Alto Adige, Trento e Verona del futuro del vecchio continente alle prese con l'avanzare delle destre. Il sito di riferimento è europa2019.provincia.tn.it Online è disponibile materiale di approfondimento e un quiz a cui si può partecipare registrandosi. In palio quattro visite studio di una settimana a Bruxelles presso le istituzioni europee e all'ufficio di collegamento della provincia.